Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook, della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Coro di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condiveranno questa diretta. Ci ritroviamo questa sera per una catechesi, o meglio per una lettura e commento di un altro messaggio della Regina della Pace di Anguera. Come sappiamo la Madonna appare da circa 30 anni ad un veggente che si chiama Pedro Regis, il quale almeno tre volte alla settimana ha i messaggi della Regina della Pace. Lui ha ricevuto l'incarico da parte della Madonna di diffondere, divulgare questi messaggi al mondo intero e dunque obbediente alla santa volontà della Madonna e dunque anche di Dio. Lui va in giro per il mondo a divulgare questi messaggi ed è venuto anche in Italia per l'ennesima volta dove ha tenuto tre incontri. A questi incontri ero presente anche io e c'è stata l'apparizione della Madonna a tutti e tre gli incontri. Quindi è stato un momento veramente molto forte di spiritualità, un momento prima di catechesi, Pedro non ha peli sulla lingua, dice le cose come stanno e poi è un momento di preghiera e alla fine del Santo Rosario, solitamente dopo la Salva Regina, appare la Beata Vergine Maria. E la Madonna ha dato tre messaggi molto forti, il primo l'abbiamo già letto e commentato, questa sera leggeremo il secondo, cioè il messaggio del 16 maggio 2018. È stato a Teramo, presso il Gran Sasso e lì la Madonna ha parlato di cose molto gravi di cui poi daremo la spiegazione. Intanto vi saluto tutti voi che siete qui in diretta. Carmen Costanzo, Raia Patrizia, Antonia Fumarola, Maria Domenica Orzia, Giovanna Chiapparino, Rosa De Rosa, Angele Rao, Caterina Francone, Lina Meli, Antonio Porto, Maria Guddeni, Giovanna Chiapparino, Anna Onida, Irene Nadere, Rosa Di Palma, Mena Troncone, Grazie Boieri, Giuliana Malandra, Benedetta Turini, Rosanna Passalalpi, Felicia Bonizio, Pina Manzo, Nino Pappalardo, Angela Sabatino, Rosa Fiorellino, Amedeo Puca, Roberta Palmigiani, Anna Chiapparino, Caterina Pietro, Giulio Pusceddu, Tonino e Patrizia Zinchini-Cuscuna, Patrizia Bucci, Adriana Pedercini, Enza Pedrazzuolo, Gaetano Minapetti, Giovanna Moretti, Teresa Moretti, Domenica Cotuli, Rosa Di Palma, Maria De Iaco, Esther Carmela Marinazzo, Pasqua Lamaruggine Campanelli, Domenica Di Meo, Giuliana Petrosino, Anna Paola Centore, Gaetana Mangiardi Macri, Teresa Moretti, Rossi Anelo, Marco Napolitano, Giuseppe Giuliana Monterisi, Elisabetta Maria Charli, Nobert Schatz, Anna Papagno Perrotta, Elisa Triglia, Rosa Chiarelli, Alessia Gianfelice, Adri Gasparini, Anna Bogdan, Rosa Cimmino, Anna Maria Lore, Salvo Scardaci, Imma Pagano, Anna Cicognani, Teresa Prestanizzi, Angela Ascione, Steffi Ponzoni, Cesarea Manzari, Maria Parascandolo, Rossella Tiziano, Rita Spina, Stella Maris, Marielena Caramagliu, Vincenzo Di Vaia, viene difficile leggere perché mettendo voi i commenti saltano le parole, no? Quindi va sempre più in su mentre leggo e quindi poi rischio di sbagliare. Assunta Milito, Carmela Manila, Tettatri, Anna Maria Giannotti, Nunzia Gigi Vicari, Giuseppina Massi, Rosa Di Palma, Iolanda Madeo, Susi Di Maru, Patrizia Samu, Cetti Puccio, Rosa Cimmino, Ornella Martinelli, Maria Concetta Tomaselli, Maria Maddalena, Vincenzo Armenio, Marielena Caramagliu, Sanislav, è il cognome difficile da riuscire a pronunciare, Vincenzo Armenio, Marina Serra, Gertruda Cappelli e tutti voi che siete in diretta, siete tantissimi, bene. Adesso andiamo a leggere e commentare questo messaggio, sono messaggi molto forti, qualcuno ancora mi critica perché commento questi messaggi, perché si dice che questi messaggi non sono autentici, perché criticano alcune situazioni che ci sono oggi in mezzo a noi. Però io più volte ho presentato la dichiarazione del Vescovo di Bahia, che la diocese dove si trova è Anguera. E il Vescovo è tranquillo sulle apparizioni, tant'è che dice che non si può né affermare che siano vere, né negare che siano vere. Noi abbiamo una commissione, dice il Vescovo, che da più di vent'anni studia questi messaggi, il Vaticano ci chiede, e dunque la Chiesa non ha mai impedito che queste apparizioni avvenissero, e che i messaggi, tutti i messaggi fossero diffusi in modo universale. E non c'è neanche un solo messaggio che vada contro la dottrina della Chiesa o direttamente contro il Vangelo. Dunque tutti i messaggi sono perfettamente conformi alla dottrina cattolica, tant'è che il Vescovo ha affermato con chiarezza che è, quello di Anguera, un movimento cattolico. Dunque è un movimento cattolico dove ci sono i sacerdoti che seguono, lui stesso in qualche occasione va lì ad Anguera, dunque a presiedere magari degli incontri. Dunque è un movimento ecclesiale. Chi si pone contro questo movimento? Si pone contro quello che dice la Chiesa. Non si può dire assolutamente che sono falsi. Oggi purtroppo ho ricevuto dei messaggi veramente molto, molto gravi nei riguardi sia di Pedro, sia ma anche dei veggenti di Meggiugorie, con degli insulti, delle calugne, cose assurde per un credente, per una credente. Poi se pensiamo che dietro i veggenti c'è la Madonna, significa andare direttamente contro la Madonna. Quindi assolutamente se la Madonna ci mette in guardia anche con dei messaggi molto forti, noi da figli suoi e da figli di Dio e da credenti dobbiamo ascoltare questi messaggi, valutarli e vedere anche con la nostra intelligenza se questi messaggi dicono il vero o dicono il falso. Quindi non soltanto sulla base dei preconcetti, ma sulla base dei fatti reali, perché altrimenti saremmo dei veri e propri stolti a non prendere in considerazione degli avvisi così gravi, tant'è che il sito della Regione della Pace di Anguera è appelli urgenti. Sono degli appelli urgenti che la Madonna rivolge alla Chiesa e all'umanità del nostro tempo, perché sono anche profetizzate delle grandi catastrofi che avverranno. E allora sarebbe da stolti non prendere coscienza. Come possiamo noi credere che quello che la Madonna dice è vero e che si realizzerà? Basta soltanto andare a rivedere tutte le profezie che la Beata Vergine Maria ha fatto in questi 30 anni. Sono decine e decine di profezie, moltissime di queste profezie si sono già realizzate puntualmente. Quindi questo è un criterio biblico. Quando un profeta parla e la profezia non si realizza, Dio dice non devi temere quel profeta, perché è un falso profeta. Lui si vedrà con me, ma se un profeta parla e la profezia si realizza, allora temi quel profeta perché sono stato io che l'ho mandato perché le profezie si sono realizzate. Ecco allora, la Beata Vergine Maria, Regina della Pace di Anguera, ha dato decine e decine di profezie che sono ormai realizzate. Basta che voi andate e c'è un sito che dice proprio profezie della Regina della Pace di Anguera. Profezie realizzate. Sono decine. E allora sarebbe da stolti non prendere in considerazione questi messaggi, che poi sappiamo si incastonano in uno stellario di apparizione della Madonna, dove la Madonna già ci ha messo in guardia fortemente, ad esempio abbiamo ormai vissuto da poco il centesimo anniversario dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Fatima. e questi messaggi di Anguera praticamente esplicitano il contenuto della seconda parte del terzo segreto di Fatima. Tutto quello che la Madonna sta dicendo ad Anguera è già contenuto in modo un po' più sintetico, ma sicuramente molto grave anche nell'apparizione di Fatima, come anche ad Akita la Madonna ha messo in guardia la Chiesa e l'umanità di quello che sarebbe avvenuto e così si è realizzato. Allora andiamo a vedere con serietà questi messaggi, a tenerli in considerazione. Se la Mamma Celeste ci parla, lei che è amorevole e premurosa nei nostri guardi, non dobbiamo far finta che ciò non avvenga, è solo per paura che sia vero quello che lei ci dice, metterlo da parte. Sarebbe veramente da stolti. Noi dobbiamo essere invece prudenti e intelligenti. Non è che il Vescovo di Anguera dice se tutto quello che accade ad Anguera viene da Dio, prevarrà. Ed è un criterio che ha dato il giusto Gamaliele al Sinedrio, dicendo quando si avversava il Cristianessimo e si andava contro gli Apostoli, in particolare San Pietro e San Giovanni, se questi uomini non vengono da Dio, tutto il loro movimento morirà. Ma se questo movimento viene da Dio, guai a noi a trovarci a lottare contro Dio. Perché chi lotta contro Dio, chi lotta contro la Beata Vergine Maria, è un perdente. Perché Dio vince sempre. È inevitabile che Dio vinca, perché è l'Onnipotente. Quindi è inutile avversare un qualcosa che viene da Dio. Anzi, umilmente dobbiamo cercare di accogliere questi messaggi, di valutarli e poi cercare di convertirci secondo le indicazioni che la Beata Vergine Maria ci dà. D'altronde noi sappiamo che anche a Meggiugorie e dunque il titolo che la Beata Vergine Maria ha scelto è lo stesso, la Regina della Pace di Meggiugorie e la Regina della Pace di Anguera. È la stessa Beata Vergine Maria. Non abbiamo due mamme celesti. Una è la Regina del Cielo e della Terra, la Regina della Pace che usa due pedagogie differenti, un po' come faceva Gesù. Questo io ho avuto modo di spiegarlo a Pedro e ho visto che lui era molto attento quando io gli davo questa spiegazione. E qual è la pedagogia che la Madonna usa? Gesù parlava alle folle in parabole in un modo più velato, in modo che chi voleva intendere intendesse, chi vuole capire capisca. E poi parlava invece agli Apostoli in modo dettagliato, in modo esplicito e diceva a loro anche voi siete così stolti che non riuscite a capire e poi gli spiegava le cose in modo che loro fossero pronti ad accogliere quello che sarebbe avvenuto. E purtroppo bisogna dire che non sono stati pronti lo stesso perché quando Gesù li ha messi in guardia che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, doveva essere ripudiato dagli anziani, essere flagellato, poi crocifisso e ucciso e il terzo giorno di sorgere, purtroppo non gli hanno creduto, non riuscivano a concepirlo. Non facciamo la fine degli Apostoli anche noi in modo che ci rendiamo conto dopo, cerchiamo di renderci conto prima. Ecco, dicevo, a me Giugorio la Beata Vergine Maria usa questa pedagogia, quella dei segreti, cioè ci fa aspettare con l'attenzione della preparazione a questi segreti attraverso la preghiera e il digiuno in modo che anche quelli che hanno il cuore più duro quando in cominciare hanno ad essere svelati i segreti, una settimana prima la veggente Miriana insieme al suo sacerdote, un padre scelto per rivelare i segreti digiuneranno e tre giorni prima che il fatto accada Miriana lo rivelerà in modo che tutti sapranno che veramente viene dalla Madonna e avranno il tempo di convertirsi e di prepararsi a quello che avverrà e questo per dieci volte perché sono dieci i segreti di Međugorio invece ad Anguera i segreti sono già rivelati la Madonna ci sta già dicendo quello che avverrà basta soltanto andare a leggersi tutti i messaggi di Anguera e se non tutti quelli più importanti perché sono quasi cinquemila messaggi quindi è un bel libro andare a leggere tutti però sicuramente i più importanti li possiamo leggere e ci sono delle profezie che riguardano l'Italia l'Europa varie nazioni del mondo e poi ci sono le profezie sulla Chiesa e sull'intera umanità e a Anguera tutto è già svelato dunque carissimi fratelli e sorelle amici e amiche andiamo a leggere questi messaggi intanto io cercherò di fare questo servizio in obbedienza alla Santa Volontà della Beata Vergine Maria di leggere e commentare spero di riuscire a fare il commento a tutti i messaggi settimanali in modo da essere pronti e poi commenterò anche alcuni messaggi di Medjugorje chiaramente perché le due apparizioni si possono integrare bene andiamo direttamente adesso a leggere il testo questa è l'apparizione avvenuta il 16.5.2018 a Isola del Gran Sasso Teramo il messaggio della Madonna di Anguera è il 4637 bene leggiamo e commentiamo se volete anche voi potete scrivere dei commenti poi io cercherò di leggere anche i vostri commenti e di dare una risposta quindi vi chiedo però di essere nei commenti prudenti di non andare oltre il lecito di dire le cose in modo semplice quindi i commenti che ritengo opportuno li leggerò e darò delle risposte cosa dice la Beata Vergine Maria in questo secondo messaggio dato in Italia nella missione iniziata il 15 di maggio cari figli camminate verso un futuro di grande divisione nella casa di Dio ecco questo incipit che ho spiegato varie volte la Madonna si rivolge a noi e trattandoci da figli cari figli voi che mi siete cari potremmo dire figli amati tant'è che la Madonna nel messaggio del 15 ha voluto sottolineare questo che lei ci ama che Gesù ci ama dunque questi messaggi sono messaggi di amore Maria ci ama tant'è che a Meggiugorio la Madonna ha detto se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia ecco carissimi siamo più di 200 vi chiedo di condividere questa diretta su tutte le vostre pagine facebook perché credo che sia importante che siano conosciuti questi messaggi della Regione della Pace di Anguera dunque se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia cari figli si rivolge a noi con l'amore di una madre e della più grande della più pura della più santa delle madri della più buona delle madri noi amiamo le nostre mamme terrene ma e le nostre mamme terrene ci amano ma la mamma celeste ci ama infinitamente di più di quanto ci ami qualunque mamma terrena perché lei pensa non solo al nostro bene materiale e terreno ma pensa spiritualmente al nostro bene eterno perché la nostra vita è fatta non per questo mondo ma per l'eternità e vediamo questa prima affermazione camminate verso un futuro di grande divisione nella casa di Dio come ho detto nel messaggio che ho commentato la volta scorsa questo tipo di profezia è già stata fatta sia a Fatima sia alla Salette sia ad Akita in Giappone cioè si vedranno cardinali contro cardinali vescovi contro vescovi sacerdoti contro sacerdoti dunque sarà una cosa veramente molto grave già la vediamo voi pensate che è di pochi giorni fa l'affermazione di un cardinale belga se non erro il quale ha detto che gli atti omosessuali non sono peccato questa è un'affermazione gravissima un'affermazione eretica perché va contro il Vangelo contro tutta la scrittura e contro la tradizione di duemila anni della Chiesa che un cardinale faccia questo tipo di affermazione dicendo che gli atti omosessuali non sono peccato significa che se non ha perso la fede ci manca poco perché è un'affermazione gravissima San Paolo nella lettera ai Romani condanna con chiarezza gli atti omosessuali ma Dio stesso ha voluto punire perché di questo si tratta e non possiamo togliere questa parola biblica la punizione significerebbe cancellare molti passi della Bibbia la punizione che cos'è? la punizione è la conseguenza del peccato degli uomini Dio ha dovuto punire Sodomi e Gomorra facendo discendere un fuoco dal cielo e consumando completamente quelle due città ormai sodomite ormai immorali depravate irrecuperabili non c'era più niente da fare per questo Dio ha dovuto cancellarli dalla faccia della terra altrimenti quel morbo si sarebbe diffuso come una pestilenza mortale e mortifera a tutti gli altri quindi due città completamente depravate ma che cosa sta avvenendo? anche al nostro tempo questa peste dell'immoralità questa peste della perversione i gay pride ormai sono diffusissimi e non puoi più neanche parlare perché se dici che sono delle perversioni e ti condannano perché sei omofobo ma questa è una realtà la Bibbia dice questo quindi dobbiamo cancellare la Bibbia dobbiamo dire che la Bibbia dunque non è vera e dobbiamo dire che il magistero della Chiesa non è vero il catechismo della Chiesa Cattolica va cancellato oppure duemila anni di magistero di santi papi teologi e così via vanno cancellati di colpo con una spugna assolutamente ridicolo pensare a una cosa del genere assolutamente ridicolo perché si vuole giustificare il proprio peccato di perversione dicendo che Dio in realtà non ha detto questo che Dio sbaglia che la scrittura sbaglia che la tradizione della Chiesa sbaglia che il magistero anche attuale della Chiesa sbaglia quindi gli atti omosessuali dice il catechismo della Chiesa Cattolica sono intrinsecamente disordinati e contro natura ecco un cardinale non può dire questo ma non soltanto questa affermazione ha detto questo cardinale tanti altri cardinali e tanti altri vescovi stanno dicendo delle cose che vanno palesemente palesemente contro sia il Vangelo sia il Magistero della Chiesa mentre tanti altri affermano con sicurezza quello che è il Vangelo e quello che è il Magistero della Chiesa di 2000 anni e dunque tra questi cardinali tra questi vescovi tra questi sacerdoti c'è discordanza c'è divisione e la Madonna ci dice che questa divisione ancora di più si manifesterà nella Chiesa camminate verso un futuro di grande divisione nella Casa di Dio da quale parte noi dobbiamo stare? dalla parte giusta cioè dalla parte di Gesù dalla parte della sua parola che è il luce di verità dalla parte della Chiesa che ha insegnato per 2000 anni sempre le stesse verità morali dalla parte del Catechismo della Chiesa Cattolica questa è la parte giusta non dalla parte di un cardenale di un vescovo di un sacerdote che dica il contrario di quello che dice il Vangelo di quello che dice il Magistero della Chiesa di quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica poi risponderò ecco Elisa Triglia dice il Papa perché non li scomunica e corrispondo subito a questa domanda carissima Elisa sono già scomunicati perché c'è chi dice un'eresia che si tratti di eresia diciamo morale o di eresia teologica incorre ipsofatto e l'ha di sentenza nella scomunica a meno che non ritratta l'eresia quindi se lui ritorna indietro e dice di aver sbagliato si pente allora è bene ma se no altrimenti incorre nella scomunica e la scomunica è la pena più grave che c'è all'interno della Chiesa la più grave perché chi incorre nella scomunica si taglia fuori dal corpo mistico di Cristo cioè dalla Chiesa e non dovrebbe avere più nessun ruolo purtroppo sappiamo che non è così che tanti che fanno affermazioni eretiche rimangono nella Chiesa se continuano a fare danni enormi per la Chiesa di Cristo feriscono il cuore di Dio mettono divisione dentro la Chiesa conducono le anime alla perdizione questa è poi la conseguenza più drammatica chi segue queste persone questi falsi profeti va verso la perdizione e loro stessi se non si convertono rischiano di perdersi soffro continua la Madonna per quello che vi attende soffro per quello che vi attende cioè la Madonna soffre per noi che abbiamo la fede che vogliamo restare fedeli a Gesù vogliamo riconoscerlo davanti agli uomini vogliamo essere fedeli a quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri e che ci è stato insegnato da bambini ecco ci attende un futuro di dolore e di persecuzione purtroppo siate coraggiosi ecco però la Madonna ci conforta siate coraggiosi e testimoniate Gesù con la vostra stessa vita la vostra croce sarà pesante ecco la Madonna non ci nasconde che quello che ci aspetta se noi resteremo fedeli all'autentico magistrato della Chiesa dovremo soffrire molto la vostra croce sarà pesante sarete rigettati per amare e difendere la verità cioè la situazione si potrebbe completamente capovolgere che cosa vuol dire che quelli che insegnano delle eresie poiché hanno preso il potere all'interno della Chiesa dal punto di vista formale possono buttare fuori quelli che invece restano fedeli al Magistero della Chiesa questo si verificherà cioè quelli che resteranno fedeli al Vangelo alla tradizione della Chiesa al Catechismo della Chiesa Cattolica e difenderanno queste verità e ameranno queste verità saranno rigettati cioè buttati fuori potrebbero essere scomunicati come purtroppo è avvenuto ad esempio a un sacerdote sudamericano il suo vescovo l'ha scomunicato perché lui non accettava la comunione dei divorziati risposati che non può essere fatta perché chi vive nello stato di peccato grave o di peccato mortale permanente non può né ricevere la soluzione né chiaramente ricevere la santa comunione eppure è stato scomunicato chiaramente quella scomunica è invalida anzi al contrario si ritorce come una spada a doppio taglio verso il vescovo il suo vescovo che l'ha scomunicato perché vuol dire che il vescovo è caduto nell'eresia e lui dal punto di vista spirituale è scomunicato per diritto canonico ipsofatto e la desentenza mentre il sacerdote non è assolutamente scomunicato ma è nella piena comunione con la chiesa perché è rimasto con la verità e la difesa e può continuamente e può tranquillamente continuare ad esercitare il suo ministero anche se il suo vescovo l'ha scomunicato perché in quel caso un vescovo che incorre nella scomunica non ha più nessun potere all'interno della chiesa dunque neanche il potere di scomunicare pur rimanendo l'aspetto formale cioè che questo vescovo rimane in carica non avendo più dinanzi a Dio nessuna nessuna possibilità di rappresentarlo non può sicuramente scomunicare un sacerdote anzi al contrario il fatto di aver scomunicato il sacerdote perché il sacerdote difendeva la verità è stato scomunicato ipsofatto e la sentenza il vescovo perché non basta la formalità dinanzi a Dio ci vuole la sostanza delle cose a causa di questo vediamo cosa ci dice la Madonna molti ferventi nella fede si tireranno indietro per paura vedendo che ormai diciamo vedendo che ormai l'eresia sta dilagando veramente sulla bocca di tanti che dovrebbero annunciare la verità ormai c'è l'eresia allora molti avranno paura di dire le cose come stanno proprio per non essere scomunicati o per non ricevere qualche recriminazione dunque magari essere messe da parte essere sospese dalle parrocchie e così via e allora si tireranno indietro e questo è grave bisogna avere coraggio non bisogna avere paura degli uomini ma soltanto del giudizio di Dio bisogna avere il coraggio anche nel momento in cui bisogna soffrire per difendere la verità Gesù per difendere la verità è salito in croce gli apostoli sono stati martirizzati hanno dovuto subire ogni sorta di violenza per attestare il Vangelo di Cristo per difendere la verità della Chiesa ecco questo potrebbe essere veramente una cosa molto grave che avverrà a tanti che oggi sono ferventi molti ferventi nella fede si tireranno indietro per paura cioè oggi sono ferventi io ho sentito qualche sacerdote che stimavo che parlava con chiarezza sembrava veramente che dovesse diventare un punto di riferimento invece a un certo momento ha incominciato a titubare ha incominciato a dire cose che sono contro il Vangelo e contro il Magistro della Chiesa per paura per paura di perdere posti per paura di perdere parrocchie per paura di perdere stipendi di perdere pensioni di perdere ruoli di perdere insegnamenti per paura è veramente una cosa assurda quella che sta avvenendo noi dobbiamo avere paura solo del giudizio di Dio non di quello degli uomini Dio non ci farà mancare il suo aiuto come ha detto la Madonna nel messaggio che ho commentato la volta scorsa Gesù è molto vicino a noi e Lui ci assisterà in tutto ci toglieranno lo stipendio non ha importanza il Signore provvederà non mancherà la provvedenza perché i fedeli resteranno e i sacerdoti che saranno fedeli saranno aiutati da quelli che sono fedeli a Cristo e che non vogliono rinunciare ad essere cattolici al 100% per conto mio io spero di rimanere un sacerdote cattolico fino alla morte non mi tirerò indietro se Dio mi darà la forza qualunque siano le conseguenze perché oggi bisogna avere il coraggio di affermare la verità fino in fondo anche perché chi capisce la verità e non l'annuncia con chiarezza sarà chiamato in giudizio davanti a Dio e allora lì veramente poi dovrà soffrire molto poi piangerà lacrime di sangue per essersi tirato indietro e non aver difeso la verità e quale sarà la conseguenza di coloro che erano ferventi nella fede e per paura si sono tirati indietro saranno contaminati dal fango delle false ideologie che entreranno nella chiesa per mezzo dei falsi pastori dunque una conseguenza molto grave dunque questi che hanno la fede autentica però hanno paura di ricevere delle conseguenze saranno contaminati dal fango delle false ideologie non delle delle verità ma delle false ideologie delle costruzioni umane che entreranno nella chiesa per mezzo di falsi pastori dunque non basta indossare la talare o il clergyman o lo zucchetto per essere un buon pastore se si rinuncia alla verità si diventa falsi pastori falsi profeti si incorre nella scomunica ipsofatto e date sentenze si perde la grazia di Dio si vive in stato di peccato grave dunque di peccato anche mortale perché chi incorre nella scomunica incorre nel peccato mortale si rischia di perdere l'anima e quelli che li seguiranno faranno la stessa fine tant'è che Gesù ha detto un cieco non può guidare un altro cieco tutte e due cadranno nel fosso questi falsi pastori che sembreranno pastori ma che al contrario hanno abbracciato false ideologie porteranno molti alla rovina e contamineranno molti che prima erano fermenti ma che adesso perderanno la fede e li porteranno nella via dell'eresia o dell'apostasia questa è una cosa gravissima purtroppo che sta succedendo e questa è già stata profetizzata dalla Madonna ed è stata anche approvata questa profezia da parte della Chiesa quindi non è un qualcosa che appartiene a qualche mistico da strapazzo falso mistico da strapazzo no no sono delle apparizioni della Madonna approvate dalla Chiesa Cattolica come la Salette il messaggio di la Salette è veramente drammatico andate a leggere il messaggio della Salette qualche volta lo prenderemo lo leggeremo per cercare di capire cosa ci dice la Madonna in mezzo a tutto questa confusione che si creerà non indietreggiate neanche di un passo non dobbiamo indietreggiare anzi al contrario dobbiamo andare avanti perché Gesù è con noi perché Maria è con noi perché lo Spirito Santo è con noi perché la grazia di Dio ci assisterà perché la provvidenza non ci mancherà certo dovremo soffrire l'ha detto Maria la vostra croce sarà pesante ma in questa croce con Gesù e con Maria noi sentiremo una dolcezza profonda perché sapremo che siamo sulla strada giusta cioè sulla strada stretta e angusta che conduce verso la vita eterna verso la salvezza al contrario guai a coloro che abbracceranno che imboccheranno che percorreranno la via larga e spaziosa che porta verso la perdizione guai a loro oggi sono gloriosi domani saranno ignominiosi oggi ridono domani piangeranno oggi si sentono in paradiso domani andranno all'inferno quindi attenzione perché la situazione è veramente molto grave date il meglio di voi di voi e sarete ricompensati dal Signore dunque date il meglio di voi e sarete ricompensati dal Signore quindi la nostra ricompensa è presso Dio dice San Paolo non presso gli uomini quando vi sentite deboli cercate forse nelle parole del mio Gesù e nell'eucaristia dunque Gesù è con noi e lui ce l'ha promesso ecco io sono con voi fino alla fine del mondo coloro che crederanno sentiranno sentiranno una presenza straordinaria molto vicina di Gesù in modo particolare nella presenza eucaristica a cui tanti stanno già rinunciando molti ormai hanno perso la fede nella presenza eucaristica in corpo sangue anima e divinità di Gesù e poi il Vangelo come ho detto diverse volte che è la norma normans non normata cioè la norma che è norma e che non può essere normata da nulla perché è la parola del verbo di Dio gli uomini perversi cercheranno di spegnere lo splendore del tesoro più prezioso della chiesa chi sono questi uomini perversi? purtroppo noi sappiamo che dentro la chiesa si è infiltrata la massoneria la massoneria che veniva definita da padre Pio una setta satanica e non così con un iperboli cioè con un'esagerazione la massoneria è una vera e propria setta satanica nelle parti diciamo meno importanti quelle diffuse un po' così localmente magari c'è gente che non si rende conto ma i vertici chi governa la massoneria è un satanista adora Satana e dunque è coloro che si leggono alla massoneria facendo un patto entrano in un patto satanico e ne ricevono anche le conseguenze tant'è che la chiesa ha scomunicato la massoneria chiunque si iscrive alla massoneria è ipsofatto la sentenza scomunicato non appartiene più alla chiesa cattolica quindi è finito il discorso non può ricevere nessun sacramento né partecipare alla santa messa né a qualunque altro culto ecclesiale perché è scomunicato è fuori della chiesa quindi gli uomini perversi cercheranno di spegnere lo splendore del tesoro più prezioso della chiesa ma questi uomini perversi non sono soltanto i massoni sono anche i falsi pastori di cui ci ha parlato la beata vergine Maria i falsi pastori chi sono? quelli che indossano sì l'abito talare lo zucchetto il colletto ma che ormai non hanno più il cuore dei pastori ormai non hanno più la mente illuminata dalla fede ormai hanno nella testa una ideologia falsa che propagano e solitamente questa ideologia si fa passare sotto forma umanitaria cioè volemose bene no? invece Gesù ha detto chi mi ama osserva i miei comandamenti chi mi ama osserva i miei comandamenti chi non osserva i comandamenti di Dio non ama Dio tradisce Cristo e conduce le anime alla perdizione dunque questi uomini perversi che oggi ci sono nella chiesa sono i massoni e i falsi pastori da questi noi dobbiamo guardarci sono lupi travestiti da pecore si presentano in modo mansueto in modo mite affabulando le folle ma nel cuore hanno la voracità di un lupo nel cuore hanno la voracità di chi vuole sbranare il popolo di Dio per condurlo verso l'apostasia pian piano è come chi mette una goccia di veleno in un becchiere d'acqua avvelena tutta l'acqua e dunque questi falsi pastori insegnano alcune cose vere e alcune cose false e le mischiano e la gente che chiaramente non è molto pratica di teologia di catechismo e così via si beve sia le cose vere che le cose false e così si avvelena tutto perché la Madonna sempre ad anguera ha detto in Gesù in mio figlio non c'è mezza verità Gesù è tutta la verità cercheranno di spegnere lo splendore del tesoro più prezioso della Chiesa cioè la verità e l'amore all'Eucharistia questi sono i tesori il tesoro più prezioso della Chiesa la verità e l'amore all'Eucharistia la verità dell'Eucharistia cioè la presenza reale di Cristo nell'Eucharistia la verità del Vangelo e la presenza reale di Gesù nell'Eucharistia questo è il tesoro più prezioso della Chiesa e in modo particolare anche appunto la Santa Messa dove noi troviamo il Vangelo e l'Eucharistia cercheranno di spegnere lo splendore del tesoro più prezioso della Chiesa la Santa Messa dove c'è il Vangelo e il corpo Santissimo e il sangue preziosissimo di Gesù come questo allargando spalancando le porte a coloro che nell'Eucharistia ci sono già come i protestanti allora per compiacere questi protestanti si tenterà di cambiare chiaramente anche la liturgia e potrebbe anche succedere che sia cambiata la formula liturgica della consacrazione in modo che in gran parte della Chiesa Cattolica non ci sarà più la presenza reale di Gesù nell'Eucharistia purtroppo mi chiamano sia dalla Germania dalla Svizzera e qualcuni anche dal Nord dove alcune messe cosiddette ecumeniche già si stanno celebrando in queste messe cosiddette ecumeniche partecipano cattolici e protestanti è una cosa blasfema questa è un sacrilegio i protestanti non possono partecipare alla Santa Messa Cattolica perché non credono nella presenza reale di Gesù e ne possono fare la Santa Comunione non possono e purtroppo questi falsi pastori si prestano a fare questi sacrilegi nella casa di Dio andiamo avanti molti saranno confusi e Babele e sarà presente ovunque molti saranno confusi chiaro perché quando è dalla bocca di chi dovrebbe annunciare la verità si sente la falsità i fedeli che non hanno questa capacità perché oggi veramente c'è una grande ignoranza religiosa tra i cattolici si parla di un analfabetismo religioso non ci capiscono nulla e dunque saranno confusi come già io vedo che c'è una grande confusione nessuno può negare che ci sia confusione nella Chiesa oggi chi lo nega è un falso lui chi dice che non c'è confusione oggi nella Chiesa è un falso pastore perché la confusione è evidente tutti dicono che c'è confusione e ci sono delle affermazioni diametralmente opposte tra cardinali vescovi sacerdoti e fedeli qual è appunto la linea da seguire Vangelo tradizione della Chiesa catechismo della Chiesa cattolica e io dico anche i messaggi della Madonna perché sono questi messaggi che ci mettono in guardia dunque stavo dicendo Babele sarà diffusa ovunque sarà presente ovunque a Babele cosa è successo la confusione delle lingue degli uomini e la superbia dell'uomo l'uomo che vuole salire fine a Dio vuole costruire una torre per andare fino a Dio per superare in qualche modo Dio per mettersi al posto di Dio Babele sarà presente ovunque cosa ci dice la Madonna vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede guai a chi spegne la fiamma della fede Gesù ha detto con chiarezza chi crederà e sarà battezzato sarà salvo ma chi non crederà sarà condannato perché è la fede che ci salva Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna è la fede che ci dà la possibilità di partecipare alla vita eterna al contrario chi perde la fede perde anche la vita eterna non permettete che i nemici vincano ecco questa è una chiamata alle armi da parte della Beata Vergine Maria di lottare con le armi chiaramente della spada della verità che è una spada a doppio taglio che poi è resa affilata dallo Spirito Santo la spada della verità non permettete che i nemici vincano incoraggiatevi e ovunque siate come Gesù Gesù non ha avuto paura di nessuno neanche davanti gli scrivi ai farisei egli ha indietreggiato ma ha annunciato con chiarezza il Vangelo che ha detto anche voi non siete figli di Abramo siete figli del padre vostro cioè del demonio il quadro del padre della menzogna chi dice menzogne è figlio di Satana chi dice la verità è figlio di Dio ci sono i figli della luce e i figli del tenebre i figli della luce dicono la verità i figli delle tenebre dicono le menzogne e ripetono l'importanza quale abito indossino perché oggi bisogna essere molto attenti a vagliare quello che esce dalla bocca dei ministri che dovrebbero essere di Dio ma che alcune volte come dice la Madonna diventano falsi pastori perché insegnano ideologie umane e continua il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio ed ecco perché io sono qui a parlare non perché sono giusto perché sono un peccatore ma perché sento nel cuore che Dio mi chiama a diventare giusto perché tutti siamo chiamati a diventare giusti e non posso assolutamente tradire il mio Signore che mi ha chiamato per annunciare il Vangelo e questo ho fatto da circa 30 anni e continuerò a farlo dalla prima chiamata che ebbi dopo i 20 anni ho sempre parlato del Vangelo con schiettezza a tutti e non indieteggerò adesso né per il futuro per il futuro accada quel che accada il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio certo dobbiamo saper parlare anche con rispetto perché San Pietro dice sappiate render ragione della speranza che è in voi con ogni dolcezza e mitezza con rispetto dobbiamo trattare anche i nemici con rispetto cioè quelli che sono passati dalla parte del nemico senza insultarli senza imprecare contro di loro anzi con grande carità cercando di illuminarli però senza venir meno neanche a un punto a quello che è il Vangelo di Cristo aprite i vostri cuori continua la Madonna e accettate la volontà e accettate la volontà di Dio per le vostre vite aprite i vostri cuori e accettate la volontà di Dio per le vostre vite quanti cuori sono oggi chiusi induriti come pietre ma quelle pietre si spezzeranno nel fuoco onnipotente della giustizia di Dio quindi i cuori si devono aprire oggi lasciamoci oggi trafiggere il cuore come dice San Pietro lasciamoci trafiggere il cuore e accettiamo la volontà di Dio per la nostra vita cioè anche se vediamo che le nostre vite non sono conformi fino in fondo però diciamo Signore sono un peccatore aiutami siamo dei peccatori aiutaci facci uscire invece no si giustifica il peccato anzi il peccato viene anche diffuso attraverso le leggi dello Stato e coloro che dovrebbero dovrebbero difendere il Vangelo di Cristo i comandamenti di Dio stanno in silenzio il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio dobbiamo avere il coraggio di parlare i guai a coloro che conoscono la verità e non parlano fanno silenzio non c'è bisogno di scontrarsi con nessuno basta annunciare con chiarezza la verità così come sto facendo io questa sera siate uomini e donne di preghiera questo è importantissimo perché soltanto la preghiera ci dà la forza per poter affrontare queste difficoltà perché la preghiera è comunione con Dio e soltanto chi si sente amato da Dio chi sente la forza di Dio nel suo cuore può annunciare con parresia con chiarezza senza timore la verità del Vangelo chi non prega non avrà il coraggio di annunciare chi prega poco chi prega male non avrà il coraggio di testimoniare soltanto chi incontra Cristo vivo nella preghiera e nell'eucaristia nell'adorazione dell'eucaristia trova il coraggio di poter giocare la propria vita in questo scontro epocale uno scontro epocale noi stiamo vivendo una crisi peggiore di quella ariana dove l'arianesimo cioè l'eresia e l'apostasia perché si negava la divinità di Gesù Cristo era diffusa in modo quasi universale ma poi quella eresia è stata distrutta e la vera chiesa ha triunfato perché Gesù ha promesso le porte degli inferi non prevarranno contro di essa solamente con la forza della preghiera potete raggiungere la vittoria ecco se non preghiamo non siamo capaci di combattere e di vincere avanti senza paura mi sembrano le parole che Gesù che Dio continuamente dice a coloro che chiama non temere io sono con te lo stesso l'arcangelo Gabriele dice a Maria non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ecco la Madonna dice anche a noi non temete perché se voi siete fedeli avete trovato grazia presso Dio e Dio vi assisterà seguite mio figlio Gesù il mio Gesù è molto vicino a voi ecco Gesù in questo istante proprio in questo istante nel quale noi stiamo parlando è vicino a noi Gesù è qui è qui con me Gesù è qui accanto a me Gesù è lì con voi accanto a ciascuno di voi che accogliete la sua parola Gesù è insieme con tutti noi vive molto vicino a tutti noi e crea di noi il suo corpo mistico la sua chiesa che risplende di luce e di grazia che risplende di verità e di amore che risplende di pace e di santità è accanto a noi questo è il messaggio dice la Beata Vergine Maria che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen rimanete nella pace ecco carissimi questo è il messaggio del 16 maggio 2018 della Madonna di Anguera presso Isola del Gran Sasso Teramo messaggio numero 4637 ecco voglio leggere qualcuno dei vostri commenti perché ormai sono fatte le 23 così do qualche risposta e poi concludiamo con una breve preghiera Dardisara mi dispiace ma i santi sono in paradiso noi siamo tutti peccatori in cammino ci sforziamo di essere giusti dobbiamo sforzarci ma noi siamo dei peccatori in cammino nessuno di noi deve sentirsi arrivato guai a chi lo pensa anzi pregate per me perché la missione che mi attende è difficile perché purtroppo come ben sapete sono pochi quelli che hanno il coraggio di parlare con chiarezza e nel modo giusto Orsena Palza d'Alpi dice è vero Don Pietro se non ci si abbandona in Dio non si avrà il coraggio di dire il vero ecco grazie per aver confermato Silvana Vizzarri dice non è facile solo con l'aiuto del Signore e l'illuminazione dello Spirito Santo si può e io grido e invoco il suo aiuto tutti i giorni per non cadere nella tentazione di urlare contro le persone che non riescono a capire che non riescono a capire tutto questo no carissima Silvana non dobbiamo urlare appunto contro nessuno però dobbiamo affermare con chiarezza la verità stella cometa dice io trovo forza nell'eucaristia e nell'adorazione proprio così carissima stella anche io trovo forza in Gesù eucaristico lui è la mia forza lui è stato sempre il punto di riferimento e in modo particolare nella Santa Messa la Santa Messa per me è il cuore di tutta la giornata e se non avessi la Messa crollerei in breve tempo perché non avrei dove attingere la forza invece la Santa Messa quotidiana per me e oggi ne ho celebrate due è veramente una grande forza e la seconda Messa è ancora più intensa della prima perché è come se la grazia della prima Messa si riversarsi nella seconda Santa Messa noi sacerdoti abbiamo questa grande grazia di poter celebrare la Messa tutti i giorni e di poterla vivere ancora più profondamente di quanto magari può fare un fedele perché abbiamo la formazione se lo vogliamo di capirla in profondità bene sto leggendo alcuni vostri commenti Sussi Di Maro dice non tutti i sacerdoti vivono nel Vangelo forse mi domando perché non vogliono soffrire come Gesù la debolezza umana carissima Sussi Di Maro come ha detto Gesù agli apostoli nel Gezzemani lo spirito è pronto ma la carne è debole chi non si rafforza nello spirito rischia di cadere nella carne e purtroppo dato che il mondo oggi coinvolge anche i sacerdoti e li fa gocita nelle sue dinamiche perverse e secolaristiche chiaramente loro mancano poi di forza perché purtroppo non pregano bisogna che i sacerdoti riscoprano la presenza di Gesù nell'eucaristia preghino il Santo Rosario e adorino Gesù nel loro cuore continuamente durante tutta la giornata in questo modo i sacerdoti anche se sono immersi nell'attività pastorale o nelle altre attività possono resistere a questa grande apostasia dilagante bene allora carissimi e carissime adesso facciamo una breve preghiera e vi do la benedizione d'oggi in avanti come vi ho detto farò almeno qualche commento dei messaggi di Anguera in settimana se ci riesco farò il commento a tutti i messaggi della Madonna perché è importante è lei stessa che lo vuole dunque io come sacerdote che ama Maria e principalmente che ama Gesù per essere obbediente a Gesù e Maria farò questi commenti cercando di mantenere sempre il dovuto rispetto anche verso i pastori dicendo le cose chiare che dice la Madonna ma senza mancare di rispetto personalmente a nessun pastore anzi io penso che dire la verità con chiarezza se qualche sacerdote mi ascolta o qualche vescovo mi ascolta potrebbe essere anche di aiuto a lui per chiarirsi un po' le idee seguendo anche gli i messaggi della Madonna e questi messaggi come ripeto non sono stati mai condannati dalla dottrina della congregazione per la fede nemmeno uno la chiesa osserva e il vescovo di Anguera mi sembra molto più propenso a dire che sono veri che al contrario che siano falsi quindi sono messaggi che si possono tranquillamente seguire leggere e anche commentare senza che nessuno possa con giusto giudizio dire il contrario se qualcuno lo fa è perché o è in cattiva fede o perché è un ignorante o uno stolto quindi chi cade in questo si assume la responsabilità delle sue affermazioni bene adesso facciamo una breve preghiera e vi do la benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre e nei secoli dei secoli Amen Angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste Amen l'eterno riposo dona loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua riposini in pace Amen O glorioso San Michele Arcangelo Principe delle milizie celesti difendici nella lotta sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio il Dio lo domini supplichevoli te lo chiediamo e tu col divino potere incatena nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime Amen Nostri Santi Protettori pregate per noi Adesso faremo la consacrazione alla Madonna di Anguera Regina della Pace Consacrazione dettata dalla Madonna di Anguera Regina della Pace al missionario cattolico Pedro Regis estratta dal messaggio numero 458 del 2.11.1991 nella fattoria Malada Nova in Anguera Bahia Maria Regina della Pace e Consolatrice degli afflitti siamo qui ai tuoi piedi con il cuore pieno di gioia come te per consacrarci al tuo cuore immacolato sii sempre la nostra costante compagna e proteggici dai pericoli che ci circondano benedici le nostre famiglie e proteggi il nostro paese che appartiene a te dacci la pace perché sei la nostra Regina della Pace aiutaci a vivere il Vangelo di tuo figlio e a essere miti e umili di cuore con questo sincero atto di consacrazione desideriamo come te fare la volontà del Padre vediamo vediamo il pericolo in cui si trova il mondo e con il tuo aiuto e la tua grazia vogliamo salvarlo ti promettiamo più fervore nella preghiera nella partecipazione alla Santa Messa e soprattutto ti promettiamo di essere fedeli alla chiesa di tuo figlio e al successore di Pietro Papa Giovanni Paolo II ti promettiamo inoltre di vivere la nostra consacrazione e portare il maggior numero possibile di anime al tuo diletto figlio nostro Signore Gesù Cristo chiediamo la tua benedizione e protezione per il nostro amato Paese Amen Salve Origina Madre di Misericordia Vita Dolcezza Speranza Nostra Salve A te ricorriamo Esuri Figli di Eva A te sospiriamo Gementi Piangenti in questa valle di lacrime Orso dunque Abbocata Nostra Rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostroci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del seno tuo O Clemente O Pia O Dolce Vergine Maria Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Vi libero ogni male maleficio maledizione sorte legio incantesimo fattura legatura stregoneria invidia gelosia odio rancore malocchio ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere vi dia pace serenità salute prosperità comunione fedeltà coniugale fecondità di vita vi faccia crescere nella fede nella speranza nella carità e in ogni virtù vi faccia aggiungere la gioia eterna del paradiso insieme con tutti i vostri cari nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen essendo questa benedizione anche a coloro che lo ascolteranno in seguito e del Padre e del Padre e del Padre